Per rispondere a un messaggio che mi è arrivato sul canale, cercando di essere esplicativi, non esaustivi, ma esplicativi se non altro, si parlava in questo messaggio della memorizzazione di un testo quando le battute non sono battute semplici da dire, nel senso che sono cose che non si direbbero nella vita di tutti i giorni. Parliamo dunque di un testo per il cinema nel quale ci sono frasi della Bibbia, del Vangelo. Innanzitutto vanno considerati due aspetti. Il primo aspetto è il fatto del tipo di linguaggio. Il tipo di linguaggio dipende, da utilizzare dal punto di vista proprio verbale, dipende dal linguaggio teatrale o cinematografico in questo caso. Che cosa mi sta raccontando il film? È una sorta di documentario? Oppure c'è un personaggio, è una voce fuori campo? Sono aspetti diversi. Che linguaggio è? Il linguaggio cinematografico è una commedia? È un linguaggio invece realistico? Noi stiamo vivendo la vita di Gesù? In base a questo noi dobbiamo confrontarci con l'esecuzione, dobbiamo valutare come eseguire. Poniamo in questo caso, da quello che ho capito nel commento, che stiamo parlando di un film realistico, cioè la storia di Gesù ad esempio. Per cui il personaggio dovrà dire delle frasi, come è stato detto nel commento, ama il prossimo tuo come te stesso, ama i tuoi nemici. Ora, prima cosa, il personaggio è un personaggio immaginario, perché che sia esistito o meno, resta comunque immaginario, perché se noi dobbiamo interpretare un vichingo o un alieno, a prescindere che gli alieni esistano e che i vichinghi siano esistiti così come li immaginiamo, resta sempre un processo immaginifico, resta sempre un'idea che noi abbiamo di un certo personaggio, di una certa identità, perché dovremmo comunque fare un parallelismo con quello che noi conosciamo. Il personaggio di Gesù è l'immaginario nostro legato a quella tipologia di personaggio. Quello che dobbiamo trovare per dire quelle frasi è innanzitutto la motivazione che spinge quel personaggio, costruito come già detto secondo il nostro immaginario, a dire certe cose, cioè che cosa lo muove a dire. E questo vale per qualsiasi altro personaggio, cioè a quel punto il fatto che sia un personaggio immaginario o addirittura divino, non ci cambia nulla nello studio, perché noi andiamo comunque a eseguire da personaggio qualcosa, abbiamo la nostra motivazione. Io da Gesù ti vengo a dire quelle frasi perché credo che quella frase, che quell'idea possa cambiarti la vita. E allora te lo sto dicendo perché se tu ami il prossimo tuo ne benefici, se tu riesci a amare i tuoi nemici stai meglio e ottieni dei risultati. Allora io devo trovare questa chiave, deve essere un suggerimento profondo che nasce da una consapevolezza del mio personaggio. Cioè so che sto migliorando la tua vita dandoti questo consiglio. Come memorizzarlo? Probabilmente dal punto di vista tecnico quello che ci conviene fare è riprendere i suoni che utilizzeresti in un parlato comune, perché quelle parole magari non sono parole che tu utilizzeresti nella vita, a prescindere dal senso che quello va acquisito, come abbiamo detto, a parte nel lavoro sul personaggio. A quel punto capiamo che cosa e come glielo sta dicendo. Per farti un esempio, se io dovessi dire maledizione, ho fatto tardi, peccato, è una cosa che nella vita non direi mai. Maledizione, ho fatto tardi, peccato. Ma direi che cazzo ho fatto tardi, annaggia. Direi questo, no? E allora quello che ho fatto lo porto nel maledizione, ho fatto tardi, peccato. Ti porto quell'atteggiamento e quella sonorità nel parlato obbligato dal testo. E magari vado a imparare il testo proprio utilizzando questi meccanismi. Ciò che ci fa arrivare alla memorizzazione deve essere sempre, quello che consiglio, la necessità interna. E in appoggio addirittura, come ti ho fatto vedere, lo sviluppo dei suoni. Cioè mi porto i suoni e la modalità espressiva che utilizzerei nel dialetto mio, me lo porto dentro il parlato obbligato del testo. Ama il prossimo tuo come te stesso, adora i tuoi nemici, è qualcosa che è un consiglio. Che tipo di consiglio darei io a una persona? Guarda attento, non fare così. Fa così che è meglio. Questo tipo di atteggiamento e di sonorità lo porto dentro. Ama il prossimo tuo come te stesso. Adoro i tuoi nemici. E' un'ipotesi. Necessità, modalità espressiva, ma vado per impulso. Non vado per memorizzazione meccanica. Perché con la memorizzazione meccanica io tendo a portare dentro la necessità di memorizzare, anziché la necessità di dire. Questo è genericamente quello che posso dirti rispetto a questa situazione che hai, insomma, da risolvere. Poi dipende dal tipo di linguaggio, perché in alcuni casi, magari con una musica sotto, fosse una voce fuoricampo che dice queste parole, ama il prossimo tuo come te stesso, adoro i tuoi nemici. Con una bella musica sotto, dipende dal linguaggio. Se sei un documentario che parla di Gesù, può starci bene questo tipo di atteggiamento. Perché è un fatto simbolico, non è una necessità del personaggio. Allora la voce ufficiale che mi racconta una cosa in maniera ufficiale può diventare il modo giusto di raccontare con quel tipo di linguaggio cinematografico. Ma per quello che mi ha detto io, opterei per l'altro, perché mi sembra di aver capito che la situazione è questa.